Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi ti voglio spiegare che cos'è un estratto idroenzimatico. Devi sapere che le piante, grazie al fatto che sono sempre ferme e non possono scappare, hanno sviluppato dei meccanismi di difesa molto particolari che racchiudono all'interno delle loro parti sotto forma di principi attivi. Per avere un complesso fitoterapico al 100% si devono utilizzare oltre all'acqua e all'alcol come solventi anche gli enzimi. Infatti sottoponendo la pianta a dei processi idroenzimatici di estrazione si riescono ad estrarre anche i principi attivi contenuti nelle membrane cellulari che normalmente con altri solventi non vengono estratti. Oltretutto si evitano anche i solventi chimici che sono tossici. Avendo quindi un fitocomplesso completo la sua efficacia è molto maggiore. e si possono ridurre anche i dosaggi a 5-10 gocce lontano dai pasti per due volte al giorno.